Hai mai visitato un cantiere? Lo so, tubi ovunque, attrezzi, macerie, muri rotti, aperture che non sono aperture e chiusure che non sono chiusure. È difficile comprendere cosa può venire alla fine dei lavori. Ma qui siamo in Borgo, in questa palazzina dove sono rimaste solo le due unità che stanno ottimando e dove tu puoi scegliere le rifiniture. Sì, hai capito bene, due unità in tutto, una con tre camere da letto e una con due camere da letto. Perciò seguimi e non perdere questa occasione. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo cantiere in vendita. Siamo in Borgo, tra via di sopra e via di mezzo e via di sotto, nell'angolo proprio del cuore del Borgo Antico. E qui si trova questa palazzina in corso di ristrutturazione dove sono rimasti solo due appartamenti in vendita. Uno con tre camere da letto al secondo ed ultimo piano, un attico potremmo anche chiamarlo, ed uno al primo piano con due camere da letto, a entrambi con balcone e garage. Lo so, vedere certe foto come sono queste oggi è fatica a comprendere cosa possa avvenire, ma se ti facessi vedere questi rendering, sono gli stessi ambienti, gli stessi identici ambienti con lo stesso punto di vista. Eppure cambia completamente. Beh, non perdere l'occasione, ti aspettiamo per accompagnarti a vedere i due appartamenti. Perciò non mi resta che dirti, ci vediamo in visita. Grazie a tutti.